Come già capitato all'andata, il Castellamare ferma la corazzata a Cragas anche al Giorgio Matranga. La rete del partinicese Caccetta, ex del Trapani in Serie B, ha risposto Caronia in zona Cesarini. La squadra di Mione, dopo settimane di affanno, esce così fuori dalla zona play-out, quando mancano adesso cinque gare al termine del campionato di eccellenza. In promozione l'Alcamo che non ti aspetti, i bianconeri, recuperate alcune importanti pedine, hanno scaricato la loro rabbia sul Parti Nicodacia, giudicandosi il derby per 4-1. Dopo tre sonore sconfitte, l'Alcamo rialza la china, ritrovando compattezza e determinazione. Troppo tardi però, per centrare l'obiettivo minimo della stagione, i play-off. In testa prende un po' di largo la Folgore, che batte il Castelltermine, mentre il Fulgatore, adesso a tre lunghezze dalla vetta, viene fermato in casa dal Camarat sul 2-2. E passiamo al basket. La Libertas, Alcamo è già in Serie D, nonostante debba giocare ancora a quattro gare di campionato. I ragazzi di Cocci Ferrara restano imbattuti pure sul difficile parquet del GF23 Sport Palermo e mantengono l'impegno di inizio stagione, tornare immediatamente dopo tre anni di stop nei campionati regionali che contano. La certezza matematica della promozione in Serie D è arrivata ieri sera dopo la sconfitta interna di Multimedica Erice, ma nel pomeriggio la Libertas aveva conquistato un'altra straordinaria e difficilissima vittoria, la dodicesima su dodici gare disputate. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto per la vittoria del campionato, sia per, come hai detto benissimo tu, una festa per la popolazione al camese, almeno quella legata alla parte cestistica, perché c'eravamo interrotti con tantissima gente al Palazzetto, abbiamo finito con tantissima gente di nuovamente al Palazzetto e con una vittoria del campionato che dà sicuramente soddisfazioni. Una squadra, Coccio, che va dai 17 ai 52 anni, con l'arrivo nelle ultime partite di Ciccio Pellegrino, ma c'è stato veramente un grande spirito di collaborazione fra giovanissimi e, tra virgolette, anziani. Sì, sicuramente, nonostante questa differenza di età tra i vari componenti del gruppo, tutti si sono integrati benissimo, con i più grandi che si sono messi a servizio dei più piccoli e comunque hanno avuto tantissimo spazio, perché il campionato è stato fatto principalmente per loro. È come ogni sport di squadra, quando il gruppo poi è affiatato, è unito, i risultati non possono che essere positivi. Ieri sera l'ultima vittoria, quella decisiva, su un campo difficile, si comincia male, ma poi viene fuori la voglia di provare a vincerle tutte. Sì, ieri giochiamo nel campionato contro il Paramo, contro la terza in classifica, una squadra buona e ben allenata, ma la nostra voglia, la nostra determinazione, il nostro fatto di contare su rotazioni molto ampie, alla fine ci ha permesso, poi nel terzo e nel quarto quarto, come spesso è successo, di prendere il vantaggio e di portare a casa la vittoria finale. Non conoscevi il campionato di promozione, insomma, hai allenato sempre nelle categorie superiori. Ti aspettavi di poterlo vincere? Sì, sì, giocavamo per quello, chiaramente non conoscendo gli avversari, non allenando in promozione da anni, perché l'ho fatto una volta all'inizio della mia carriera e non sapevo chi incontrava, però ero consapevole del gruppo, delle qualità del mio gruppo, delle qualità dei miei giovani, che ci tengo a ribadire, nonostante giocavamo nel 2005, 2004, 2003, che sono cresciuti tantissimo e che sicuramente sono pronti anche per provare a giocare in serie più alte. Bene, adesso cosa si fa in queste ultime quattro gare che mancano? Adesso onoriamo l'impegno preso e proviamo sicuramente a vincere il campionato, vincendole tutte, dico il campionato l'abbiamo già vinto, proveremo a vincere tutte, comunque è una doppia soddisfazione salire in serie D, diciamo dai imbattuti, diciamo l'obiettivo sarà questo. Che speranze ci sono per il futuro? Ancora è presto ovviamente. Sì, ancora è presto, diciamo, tanto ci guardiamo queste settimane, questi mesi di festa, però diciamo la speranza è quella di poter fare il campionato di serie D, diciamo abbiamo dietro un movimento di ragazzi che cresce, numeri del settore giovanile abbastanza importanti, quindi anche per dare un segnale a chi sa dire, insomma noi vogliamo provare a continuare la nostra crescita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.